florence scove il scim il gioco della vita e come giocarlo capitolo 9 perfetta espressione di sé o il piano divino vi è per ogni uomo e ogni donna la perfetta espressione di sé c'è un posto che loro sono qui per riempire che nessun altro può riempire qualcosa che sono qui per fare che nessun altro può fare è il loro destino questa realizzazione è un'idea perfetta nella mente divina in attesa di riconoscimento da parte degli esseri umani poiché la facoltà di visualizzazione è una facoltà creativa è necessario che si visualizzi l'idea prima che questa si possa manifestare perciò la richiesta più elevata dell'essere umano è per il piano divino della sua vita egli può non avere la minima idea di quale sia il suo piano divino però deve avere la consapevolezza che nascosto dentro di lui alberga un talento meraviglioso la sua richiesta dovrebbe essere spirito infinito apri la strada affinché il piano divino della mia vita si manifesti lascia che il genio dentro di me ora si liberi permettimi di vedere con chiarezza il piano perfetto il piano perfetto include salute ricchezza amore e piena espressione di sé questo è il gioco della vita che porta la perfetta felicità quando hai posto questa domanda puoi incontrare grandi cambiamenti nella tua vita perché quasi tutti se non conoscono le leggi spirituali vagano lontano dal piano divino per una mia allieva fu come se un ciclone avesse colpito i suoi affari ma rapidamente tutto si aggiustò e condizioni nuove e meravigliose presero il posto delle vecchie il percorso della perfetta espressione di te non sarà mai una fatica o una sofferenza ma ti assorbirà così completamente che ti sembrerà quasi un gioco sai bene che ogni uomo e ogni donna vengono al mondo finanziati da dio perciò tutta l'abbondanza per la loro perfetta espressione di sé sarà sempre a portata di mano più di un genio ha lottato per anni con il problema della ricchezza quando la sua parola e la sua fede avrebbero liberato rapidamente i fondi necessari alla fine di un seminario un giorno un uomo venne da me e mise sul tavolo un centesimo disse ho appena sette centesimi in tutti e voglio darvene uno perché ho fede nel potere della vostra parola voglio che usiate le vostre affermazioni per la perfetta espressione di me e per la mia prosperità io pronunciai la parola e non lo vidi più fino a un anno dopo un giorno ritornò sorridente e felice con un rotolo di banconote in tasca mi disse subito dopo che avete lavorato con le vostre affermazioni mi è stato offerto un ottimo lavoro in una città lontana e ora sto manifestando salute felicità e ricchezza la perfetta espressione di sé di una donna potrebbe anche essere quella di diventare una moglie perfetta una madre perfetta una perfetta casalinga e non necessariamente quella di avere una carriera pubblica la richiesta porta indicazioni definite e la via sarà realizzata in modo facile e con successo non si dovrebbe forzare la visualizzazione di un'immagine mentale quando si fa richiesta al piano divino di entrare nella nostra mente cosciente riceveremo lampi di ispirazione e cominceremo a vedere noi stessi ottenere grandi risultati questo è il quadro o l'idea che deve essere mantenuta costantemente senza vacillare la cosa che l'uomo cerca cerca lui il telefono era in cerca di bill la luce elettrica era in cerca di edison i genitori non dovrebbero mai forzare le carriere e le professioni dei loro figli con la conoscenza della verità spirituale e il piano divino può essere richiesto per i figli nella prima infanzia o prima della nascita un trattamento prenatale dovrebbe essere basato sulla seguente affermazione spirito infinito permetti che il dio che è in questo bambino che sta per nascere realizzi la perfetta espressione di sé lascia che il piano divino della sua mente del suo corpo e dei suoi affari si manifesti lungo tutta la sua vita per tutta l'eternità si è fatta la volontà di dio non quella dell'uomo si è realizzato il piano di dio non il piano dell'uomo è il comando che attraversa tutte le scritture la bibbia è un libro che ha a che fare con la scienza della mente e la bibbia è un libro che ha a che fare con la scienza della mente si tratta di un libro che racconta all'uomo come liberare la sua anima o la sua mente subconscia dalla schiavitù si tratta di un libro che racconta all'uomo come liberare la sua anima o la sua mente subconscia dalla schiavitù le battaglie descritte sono le immagini delle battaglie e delle guerre che l'uomo combatte con i suoi pensieri mortali e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa matteo 10 36 ogni uomo è giosafat ogni uomo è davide che uccide golia perciò l'uomo deve fare attenzione che il suo pensiero non sia il servo malvagio che ha sepolto il suo talento vi è una pena terribile la pagare se non si usa la propria abilità spesso la paura si frappone tra l'uomo e la sua perfetta espressione di sé la paura del palcoscenico ha ostacolato molti grandi attori la paura può essere superata dal lavoro mentale con le affermazioni così facendo l'individuo perde coscienza di sé e comprende di essere semplicemente un canale attraverso cui l'intelligenza infinita si esprime e si manifesta agisce allora per diretta ispirazione senza paura sicuro di sé perché sente che il padre dentro di lui che fa il lavoro attraverso di lui un ragazzo veniva spesso ai miei seminari con la madre un giorno mi chiese di pronunciare la parola per i suoi imminenti esami a scuola gli dissi di ripetere questa affermazione sono uno con l'intelligenza infinita e so tutto quello che devo sapere sulla materia di questo esame aveva un'ottima preparazione in storia ma non era sicuro della sua preparazione matematica l'ho visto tempo dopo e mi ha detto ho lavorato con le affermazioni per la matematica e ho superato l'esame con il massimo dei voti pensavo invece di essere certo della mia preparazione in storia e non ho lavorato con le affermazioni e ho ottenuto un voto molto basso l'uomo spesso riceve una battuta d'arresto quando è troppo sicuro di sé stesso perché diventa troppo fiducioso nella propria personalità individualità e non rivolge la sua fiducia al padre dentro di lui una mia allieva mi ha offerto un esempio di questo tipo fece un lungo viaggio all'estero durante un'estate visitando molti paesi di cui era ignorante nelle lingue fece affermazioni e lavorò su se stessa per ricevere guida e protezione e il viaggio andò perfettamente tutto funzionò a meraviglia il suo bagaglio non venne mai perso ed era anzi sempre il primo che veniva restituito in aeroporto le migliori camere d'albergo erano sempre disponibili per lei e ovunque andasse otteneva sempre un perfetto servizio tornò a new york conoscendo il linguaggio della mente pensò che dio non era più necessario e iniziò a curare i propri affari in modo ordinario tutto andò a rotoli tra disarmonia e confusione se vuoi praticare le leggi della mente le leggi spirituali devi formarti l'abitudine di praticare la presenza di dio in ogni istante della tua vita niente è troppo piccolo o troppo grande per riconoscere richiedere la presenza di dio a volte un incidente insignificante può rivelarsi il punto di svolta nella vita di un uomo o di una donna robert fulton guardando un po di acqua bollire in un bolitore vide un battello a vapore ho avuto molti allievi che rallentavano la manifestazione dell'abbondanza nella loro vita a causa della loro resistenza o perché si fissavano su un'unica strada fissano la loro fede su un unico canale e sull'unica via che pensano a livello razionale essere quella che porterà la manifestazione il che spesso conduce le cose a un punto morto la mia via non è la tua via è il comando dell'intelligenza infinita ogni forza sia essa il vapore o l'energia elettrica deve avere un mezzo per esempio il motore che non faccia resistenza e si ponga come canale o strumento attraverso cui quella forza possa incanalarsi ed esprimersi l'essere umano è quel canale quello strumento più e più volte ci viene detto di stare fermi non toccherà a voi combattere in tale momento fermatevi bene ordinati e vedrete la salvezza che il signore opererà per voi lo abbiamo visto nel caso della donna a cui sono arrivati 2000 dollari dalla serie di vicissitudini del suo appartamento quando è diventata non resistente e ha lasciato che il processo andasse avanti indisturbato e lo abbiamo visto anche in quella donna che ha conquistato l'amore del suo uomo dopo che tutta la sofferenza in lei era cessata tuo obiettivo deve essere l'equilibrio l'equilibrio è potere perché dà al dio energia la possibilità di scorrere attraverso di te e di operare secondo il suo disegno d'amore filippesi 2 13 con l'equilibrio si pensa in modo chiaro e si prendono le giuste decisioni in fretta la rabbia offusca la visione a velena il sangue ed è la radice di molte malattie innesca decisioni sbagliate che portano al fallimento la rabbia è considerata uno dei peggiori peccati poiché i suoi effetti sono sempre estremamente dannosi e chi apprende le leggi spirituali impara a capire che la parola peccato ha un significato molto più concreto rispetto al vecchio insegnamento tutto ciò che non viene dalla coscienza è peccato romani 14 20 23 chi apprende le leggi spirituali impara a comprendere che la paura e la preoccupazione sono peccati mortali essi sono fede inversa e attraverso le immagini mentali distorte fanno averare la cosa che si teme il nostro compito è di scacciare questi nemici che vengono dal subconscio come abbiamo visto nei precedenti capitoli l'uomo può sconfiggere le sue paure andando loro incontro quando giosafate il suo esercito erano pronti a incontrare il nemico cantarono rendete grazie rendete grazie al signore perché egli è buono perché il suo amore è per sempre salmo 106 1 e se accorsero che i loro nemici si erano distrutti l'un l'altro e non c'era niente più da combattere una donna chiese a un amico di consegnare un messaggio a un altro amico la donna temeva di consegnare il messaggio direttamente perché così le diceva il suo pensiero razionale non farti mischiare in questa vicenda non consegnare quel messaggio alla fine decise di andare incontro al leone e invocare la legge della protezione divina decise di incontrare direttamente l'amico a cui doveva consegnare il messaggio ma quando stava per farlo scoprì che aveva lasciato la città perciò non era più necessario che gli consegnasse il messaggio quando fu disposta a farlo non fu più tenuta a farlo non appena non ebbe paura la situazione scomparve spesso le persone ritardano la manifestazione di ciò che appartiene loro per diritto divino a causa delle loro credenze legate alla paura e all'incompletezza chi sperimenta questa condizione dovrebbe ripetere questa affermazione nella mente divina c'è solo completezza perciò la manifestazione di ciò che mi appartiene è completata il lavoro perfetto la casa ideale la perfetta salute sono miei qualunque cosa richiediamo sono idee perfette registrate nella mente divina e quella cosa deve manifestarsi sotto la grazia in modo perfetto dobbiamo perciò ringraziare per aver già ricevuto nella dimensione invisibile ciò che abbiamo richiesto e attivarci per prepararlo e riceverlo nel mondo visibile una delle mie allieve aveva bisogno di una manifestazione finanziaria venne da me e mi chiese perché quella manifestazione non si era ancora compiuta e io risposi forse hai l'abitudine di lasciare le cose incompiute e il tuo subconscio ha acquisito l'abitudine di non completarle come fuori così dentro ci pensò un po e poi mi disse hai ragione vado a casa a finire un lavoro di cucito che ho iniziato settimane fa e sarà il simbolo del completamento della manifestazione cucì assiduamente e completò ben presto il suo lavoro a suo marito quel mese venne pagato lo stipendio due volte in più lui avvisò i datori di lavoro del loro errore ma loro gli dissero di tenerlo ugualmente quando chiediamo credendo dobbiamo per forza ricevere e dio crea i suoi propri canali mi è stato chiesto una volta supponiamo che una persona abbia diversi talenti come può sapere quali scegliere la risposta è chiedi che ti sia mostrato definitivamente e afferma spirito infinito dammi un'indicazione precisa rivelami la perfetta espressione di me stessa mostrami quale talento io debba usare adesso conosco persone che usando questa affermazione hanno improvvisamente cambiato tipo di lavoro e si sono trovate perfettamente preparate anche con poco o nessun addestramento perciò ripeti questa affermazione sono pienamente preparato per il piano divino della mia vita e cerca di essere privo di paura nel cogliere le opportunità alcune persone sono bravissime a donare ma pessime a ricevere rifiutano di ricevere regali per orgoglio o per qualche motivo oscuro e così facendo bloccano i loro canali immancabilmente si ritrovano alla fine con poco o niente una donna che aveva distribuito una grande quantità di denaro aveva ricevuto un regalo di diverse migliaia di dollari rifiutò di accettarlo dicendo che non aveva bisogno poco dopo le sue finanze entrarono in crisi e si trovò in debito per l'importo a cui ammontava il regalo c'è sempre un perfetto equilibrio tra il dare e il ricevere e anche se si deve dare senza pensare e ricevere indietro si viola la legge se non si accetta ciò che di ritorno ci viene dato perché tutti i doni provengono da dio e l'uomo è solo il canale un pensiero di mancanza non dovrebbe mai essere inviato a chi dona quando il mio allievo mi fece dono del suo centesimo io non dissi povero uomo che non può permettersi di darmi più di questo lo visualizzai lo visualizzai invece ricco e prospero con tutta l'abbondanza che pioveva su di lui è stato questo il pensiero che ha accompagnato il suo dono se una persona è un cattivo ricevente deve diventare un buon ricevente e accettare anche solo un francobollo se gli viene donato e aprire i suoi canali per la ricezione il signore ama chi riceve con gioia così come chi dona con gioia spesso mi è stato chiesto perché un uomo è nato ricco e sano e un altro povero e malato dove c'è un effetto c'è sempre una causa non esiste altra possibilità a questa domanda si risponde attraverso la legge della reincarnazione l'uomo passa attraverso numerose nascite e morti finché non conosce la verità che lo rende libero ritorna indietro al piano terrestre a causa del suo desiderio insoddisfatto per pagare i suoi debiti karmici oppure per compiere il suo destino l'uomo nato ricco e sano ha impresso nel suo subconscio nella sua vita passata immagini di salute e ricchezza e l'uomo povero e malato ha impresso nel suo subconscio e nella sua vita passata immagini di malattia e povertà l'uomo manifesta su qualsiasi piano la somma totale delle sue convinzioni subconsce ad ogni modo nascita e morte sono leggi create dall'uomo perché il salario del peccato è la morte romani 6 23 sono la caduta adamitica nella coscienza attraverso la credenza in due potenze l'uomo vero l'uomo spirituale è senza nascita e senza morte egli sul piano spirituale non è mai nato e non è mai morto come era nel principio è ora e sempre conoscendo le leggi spirituali la verità l'uomo si libera dalla legge del karma dal peccato dalla morte e manifesta la vera realtà delle cose ossia che l'uomo è fatto a sua immagine e somiglianza la vera libertà dell'uomo e compiere il suo destino cioè portare alla manifestazione il piano divino della sua vita